Ci troviamo davanti all'Istituto Penitenziario di Sciacca e sullo sfondo alle mie spalle potete notare un furgone che è rappresentativo di un'iniziativa, la Carovana per la Giustizia, organizzata dal Partito Radicale ma anche dall'Unione delle Camere Penali Italiane. Tanti gli obiettivi di questa iniziativa, fra cui la più importante è forse la separazione delle carriere tra pubblici ministeri e magistrati, che è portata avanti dalla fautrice di questa iniziativa, che è la rappresentante del Partito Radicale Rita Bernardini, di cui sentiamo un'intervista. La Carovana per la Giustizia del Partito Radicale, che anche qui, dopo quella della Calabria, facciamo insieme all'Unione delle Camere Penali, in particolare su questi obiettivi, sulla proposta di legge di iniziativa popolare per la separazione delle carriere dei magistrati, affinché il giudice sia al di sopra delle parti, fra accusa e difesa. Poi abbiamo l'obiettivo di salvare il Partito Radicale, Marco Pannella ci ha lasciato più di un anno fa e abbiamo bisogno di rafforzarci perché Marco Pannella era già una presenza viva e importante per questo nostro Paese. Quindi 3.000 iscritti entro il 31 dicembre, siamo poco sopra della metà del traguardo. E poi abbiamo un obiettivo che io credo molto importante, che è quello che siano approvati decreti delegati per la riforma dell'ordinamento penitenziario. E per questo abbiamo indetto un satiagra, cioè un digiuno collettivo dalle carceri ma anche fuori nella società affinché la pena sia corrispondente a quello che prevede la nostra Costituzione, quindi la funzione rieducativa e una pena che non sia contraria al senso di umanità. La carovana è partita venerdì scorso da Roma e finirà il 13 agosto. Avete visitato molte carceri? Sì, abbiamo raccolto le firme nelle carceri, siamo stati a Lucciardone, siamo stati al Pagliarelli, siamo stati a Trapani, a Castelvetrano, insomma abbiamo girate molte, ma le gireremo tutte le carceri siciliane perché è importante che i cittadini detenuti che hanno mantenuto la qualità di elettori abbiano la possibilità di esercitare il loro diritto. Dovrebbero farlo anche in occasione delle elezioni ma sappiamo che poi questo diritto viene calpestato perché poi effettivamente non lo fanno. Un'iniziativa, quella della carovana per la giustizia, che è stata sposata, come accennavamo, anche dall'Unione delle Camere Penali Italiane e a rappresentarle oggi c'era il Presidente della Camera Penale di Sciacca, l'Avvocato Nina Ogello. Il nostro impegno, ha dichiarato ai nostri microfoni, riguarda in particolare la questione della separazione delle carriere tra PM e magistrati, un conflitto inaccettabile. È un'iniziativa che abbiamo veramente sposato e anche a Sciacca oggi abbiamo risa presenza dei radicali che entreranno in carcere per fare firmare i detenuti su quella che è la proposta di legge che l'Unione delle Camere Penali Italiane ha lanciato, cioè quella della separazione delle carriere di magistrati, oltre a altri principi che sicuramente Rita Bernardini ha avuto modo di spiegarvi. In questo momento noi abbiamo i giudici che appartengono allo stesso ordine e quindi fondamentalmente gente che passa dal giudicante al riguirente senza nessun vincolo, senza nessuna appartenenza. Noi vogliamo che i due giudici appartengano a due ordini diverse, a due consigli superiore e maggiori superiore diversi e facciano due lavori diversi, non ci sia quel connubio, quella commissione che in certi momenti non è sembrata opportuna. Anche la Lega Navale di Sciacca ha voluto oggi far sentire la sua voce in merito all'iniziativa della Carovana per la Giustizia. Il nostro supporto, lungi da voler assumere carattere politico, ha un valore morale. Il nostro è un sostegno alla giustizia e al benessere del cittadino. Lo ha dichiarato l'avvocato Aldo Rossi nella doppia veste di Presidente della Lega Navale e di Vice Presidente della Camera Penale di Sciacca. La Lega Navale è lo strumento per l'appunto di avvicinamento proprio nel sociale per sposare tutte quante le iniziative. Desidero rappresentare che in ogni caso la nostra struttura, come quella alla quale appartengo, cioè dire alla Camera Penale, combatte tutto ciò che è relativo all'interesse privato, quindi all'interesse del cittadino stesso. Perché il messaggio che deve passare è che se mute il rito l'avvocato si adegua. Quindi la nostra battaglia è per il cittadino, perché se riconosciamo che quel rito mutato non è funzionale agli interessi e alle garanzie del cittadino, ecco che la Camera Penale per l'appunto si muove, ma non per l'interesse proprio, per l'interesse della comunità.